In questa puntata di Storie di Runner 451 Show parleremo della settimana della gara, avremo Massimiliano Rosolino come super ospite, parleremo di che cosa mangiare la mattina della gara e poi grazie alla dottoressa Cecilia Somigli nella nuova rubrica parleremo del rapporto tra ansia e prestazione. Sarete voi i protagonisti per rispondere al nostro super sondaggio. Tre scarpe con i tesori del runner di Nike, Brooks e Oka e per le storie della settimana avremo Run Challenge con Paola Bonaguro che ci parlerà del loro progetto benefico. Mettetevi comodi che inizia Storie di Runner 451 Show. Benvenuti alla seconda puntata di Storie di Runner 451 Show. Io sono Simone Cellini di Runner 451. Io sono Marco Raffaelli di Storie Correnti, benvenuti a tutti. Andiamo subito con la prima rubrica Marco. Allora Simone, io la prossima settimana sarò a Napoli per correre una delle mezze maratone più belle in Italia e volevo giusto sapere come affrontare quest'ultima settimana prima della gara appunto. Te ne parlo proprio in Run Like R451, come affrontare la settimana della gara. La settimana della gara è una settimana molto delicata perché se sì è vero che ormai tutto quello che potevi fare l'hai fatto, gli allenamenti e tutto, la settimana della gara è quel momento dove non puoi migliorare, non è come le interrogazioni a scuola che l'ultima notte facevi il super dritto, studiavi e portavi a casa magari la sufficienza un po' di più, ma invece la settimana della gara è quella situazione in cui non puoi poi tanto migliorare ormai quello che dovevi fare l'avevi fatto, ma puoi rischiare di buttare via tutto il lavoro che hai fatto. Per questo è molto molto delicata. Qual è il primo comandamento nella settimana della gara? È non fare niente di diverso da quello che hai fatto sinora. Non è il momento di inserire novità, né dal punto di vista dell'allenamento, né dal punto di vista dell'alimentazione, del sonno, del riposo. Perché questo? Perché qualsiasi cambiamento ha necessità di tempo, perché il nostro organismo dal punto di vista psicofisico lo accetti e lo adatti. Quindi non inseriamo novità. Chiaramente se sei abituato o abituata a dormire poco, se dormi un po' di più, ecco questa è una novità che ti farà bene. Se sei abituato a bere molto alcol, non berlo, è una novità che ti farà bene. Quindi diciamo non inseriamo novità, trucchi, colpi ad effetto pensando di rivoluzionare il nostro risultato in gara. Siamo in una fase di scarico che a seconda della distanza che andiamo a correre può essere già iniziato, oppure culmina proprio il suo picco di scarico nella settimana della gara. Ed è fondamentale. Il rischio, attenzione, è confondere lo scarico col non fare nulla. In realtà lo scarico è una riduzione importante dei volumi medi che abbiamo sempre fatto, ma non è una riduzione della qualità e della quantità in toto. Cosa vuol dire questo? Che i lavori ad alta intensità devono rimanere anche nell'ultima settimana di gara. Ovviamente non saranno lavori allenanti, avranno dei recuperi più lunghi, più importanti. Sono quei lavori che ci aiutano a ultimare la fase in cui alziamo la condizione e trovare quella brillantezza che ci servirà il giorno della gara. Anche dal punto di vista dell'alimentazione non inventiamo nulla. Dopo vedremo con Nicolas come affrontare la colazione la mattina della gara. Quello che c'è da non inventare la vecchia strategia scarico e poi carico di carboidrati non funziona. Quindi anche lì da non inventare nulla. Chiaramente nelle 48 ore precedente alla gara si può iniziare, anzi è auspicabile, fare un piccolo aumento in carico di carboidrati per essere sicuri di avere tutte le scorte di glicogeno muscolare ed epatico, quindi a livello del fegato, pronte e cariche per il giorno della gara. Per il resto godetevela, godetevi l'avvicinamento, sentite l'area, il profumo della linea di partenza, soprattutto iniziate ad immaginare, a sognare la linea d'arrivo. Ma attenzione all'ansia, anche questo è un altro argomento che affronteremo in questa puntata grazie alla dottoressa Cecilia Somigli. Marco, un super 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 ospite oggi qui a Storia di Runner 4.5, uno show, campione olimpico, campione dappertutto, perché qualsiasi cosa che fa, vince o quasi, chi abbiamo? Siamo molto contenti di avere con noi Massimiliano Rosolino, un uomo che tra olimpiadi, mondiali e record ha fatto tutto e non contento con il suo approccio ha cambiato sport, incrociando diversi aspetti della vita da campione, quale è ancora oggi. Massimiliano, grazie, grazie, grazie mille per essere qui con noi, benvenuto a Storia di Runner 4.5.1 show. Ciao Massimiliano. Grazie a voi ragazzi, sono venuto di corsa, come si dice, no? È il posto giusto dove venire di corsa questo, assolutamente. Ma sicuramente mi sento a mio agio. Ah guarda, è veramente veramente un piacere averti qui ed è anche veramente un piacere parlare di corsa con te. Fuori onda ci stavi raccontando che stai preparando la maratona, ma la prima domanda che ti vorrei fare è come mai hai iniziato a correre dopo tanti, tanti, tanti anni di acqua che poi non hai abbandonato? Allora, perché ho iniziato a correre? La realtà probabilmente succede anche questo, che io non ho mai corso in vita mia, non sono mai stato portato e credo neanche adesso. Però mi ricordo quando ero piccolino, che correvo a settembre sul molo della mia piscina, io arrivavo rosso paonazzo, cioè ero distrutto, non riuscivo a camminare per giorni e quindi ho sempre detto no, non è per me e anzi sono dei pazzi quelli che lo fanno. Poi nel 2016 sono andato a Rio de Janeiro per le Olimpiadi, ho corricchiato con degli amici, ma soprattutto ho incominciato a corricchiare perché per un lavoro mi hanno chiesto di fare un tiratron molto sprint, super sprint, quindi ho detto almeno limitiamo i danni, corriamo. In più avevo una mia carissima amica di Napoli e il suo allenatore che mi hanno fatto fare un test di Cooper, quindi mi sembra che feci, non so, 12 minuti, 2700, 1800 metri e da lì ho detto aspetta però non mi dispiace questa roba qua e soprattutto, visto che non faccio più la professione del nuotatore, poter correre è il regalo più bello che io potessi scoprire. Massimiliano, insomma, avevi un bel punto di partenza, correre a Rio con qualche campione amico tuo era stato un passaggio facile e è questa cosa che noi invidiamo a voi campioni, cioè voi fate il passaggio da professionista, da amatore, noi ne possiamo fare il contrario, però a voi in più vi resta lo spirito, il mood, quello del professionista e te lo tieni dentro anche quando poi sarai sulla linea di partenza di Londra, perché è lì che farà il debut del maratone. Guarda è così, la realtà, guarda oggi ci parlavo con mio cugino che ha fatto già un Ironman e farà il secondo, ha fatto tante maratone e lui è un po' un cinghialone come me, stessa, diciamo, testa bassa, sì, però la realtà ha detto ma tu come fai, scusami, perché io sono veramente un animale da fatica, io adoro la fatica, però indubbiamente è diverso fare fatica in acqua, io facevo 4-5 ore al giorno, 100 km a settimana, quindi correvo più di quanto io non riesco a correre, cioè nuotavo più di quanto io non riesco a correre adesso, eppure comunque è estremamente affascinante, come hai detto tu io affronto tutto con grande professionalità, perché mi piace sfatare il mito degli infortuni eccetera eccetera, io penso, poi ditemelo voi, molte persone si avvicinano al running e la prima cosa che pensano è a quanto vai e a quanti chilometri fai, sono due coefficienti che io ho capito da subito, per fortuna perché mi sono avvicinato, sono andato poi a correre in una squadra che faceva triathlon, perciò ho capito subito che la ripetuta, la tecnica, un minimo, ok, non sono il re della tecnica perché vado subito al sodo, però comunque ci sono alcune cose che uno deve cercare di fare e adesso che sto preparando la maratona di Londra è ovvio che poi io curo il pilates, adesso vado a nuotare, appena mi stacco con voi, vado a noticchiare un pochettino, faccio la fisioterapia ed è ovvio che molte persone penseranno subito, ma tu sei fortunato, ma in realtà la fortuna ognuno se la ritaglia, non c'è bisogno di avere la terapia a 50 euro, basta usare il rullo, metti in postura e hai fatto quello che forse mi ha fatto fare la mia maestra di pilates, ovvio io lo faccio perché io voglio finire la maratona con il sorriso ed è ovvio che anche dal punto di vista nutrizionale è fondamentale, adesso ho fatto soltanto fino a 25 km lunghi, ho ancora più o meno 9-10 settimane, quindi posso allungare, però ho capito che da 25 km in poi non si scherza più, quindi l'idratazione sarà detta la legge sulla performance, come lo confermate, perché altrimenti cadi nel tranello, di più è meglio, adesso il mio medio e il mio lento lo faccio a 15-20 che a voi farà ridere, allora le proverò tutte e vado per tentativi, vuol dire che devo imparare anche ad andare più piano, perché io a 5-20 non faccio fatica, però è ovvio a un certo punto è meglio bere o meglio usare il gel, sono me tutti e due, quindi è meglio andare via più pesante, proverò anche, è una vita che soglie di comprarmi quello zanetto dove si mette l'acqua dentro, il camel bag, certo, eh sì, eh sì, perché ho pensato questo, ho pensato magari a Londra, è vero, ci sono i rinformenti, però preferisco avere ogni 10 minuti un sorso piuttosto che aspettare ogni 5 km un bicchiere che fai così, no? Sì, sì. E vedi, già che ne parlo, se ne sono estremamente coinvolto. Certo, Simone, che, Simone, dicevo, se tutti i tuoi allenati pensassero così, tu avresti la metà del lavoro da fare, perché... Allora, è una cosa, tu hai detto in 3 minuti, Massigliano, quello che io predico tutti i giorni, a chiunque alleno o sui contenuti che creo su Runner 4, 5 e 1, però io penso che tu non sia fortunato, perché sono d'accordissimo con te, le cose si creano, si costruiscono, probabilmente forse la tua piccola fortuna è che avendo avuto una vita da professionista, l'approccio globale allo sport, che non è solo nuotare, come era nel tuo caso, ma era tutto quello che ci stava attorno, alimentazione, recupero, riesce a trasportarlo bene anche in quello che oggi è solo una passione, non è più anche una professione, poi dopo immagino che anche il nuoto fosse, oltre che una professione, una passione. Ti voglio chiedere questo, l'hai già accennato, però è importante, perché è un altro punto su cui io batto molto. Tecnica di corsa, no? Nel nuoto la tecnica faceva la differenza, non solo, massimo consumo di ossigeno, acquatecità, però quando dovevi lavorare sui marginal gain per arrivare o primo o secondo, la tecnica era tutto. Qual è il tuo approccio verso la tecnica di corsa oggi? Cioè, la vivi come una cosa da migliorare o è un istinto naturale correre e seguo quello che viene? No, questo no. Sicuramente io sono molto bravo sulla parte organica, quindi mi piacciono le ripetute. Hai detto una parola molto importante che uno deve sottolineare, recupero. Io di media faccio attività sportiva per sentirmi bene nel quotidiano, quindi la parte di recupero la faccio spesso attiva. Recupero è una parola molto importante. Molti la sottovalutano. Io stesso preferisco andare a correre piano piuttosto che stare fermo a casa mia. Però il recupero significa anche saper dormire bene, ma la cosa bella che ti regala lo sport, ed è una cosa che spesso uno, come uno pensa spesso, correre significa andare più veloce e fare di più, ma ti insegna anche a riposare meglio. Perché io la domenica, che devo fare lungo, io sabato sera sarò stigato, ma secondo me è una priorità, è un grande privilegio, io vado a dormire entro mezzanotte, faccio una colazione fatta bene. Anche prima. Ed è ovvio che mi concedo poi il pranzo della domenica un po' più ricco. Cerco nelle prossime 24 ore, 48 ore, di ripristinare quella stanchezza che io sono molto allenato, ma io faccio molta fatica. Ed è ovviamente una cosa che uno deve poi imparare, è l'esperienza. Ci sono tre coefficienti che racconto sempre. Uno è le nostre origini, il nostro DNA, che probabilmente ognuno è stato più fortunato dell'altro, non esiste uno sfigato secondo me. E più esistono le esperienze, e la corsa è un'esperienza meravigliosa, e poi esistono i sogni. Per quanto riguarda la mia tecnica di corsa, è ovvio che io sono, lo detto, un organico, nel senso mi piace la ripetuta. Però come sto facendo attenzione a quegli aspetti di gestione, quindi idratazione, lo spuntino? Negli ultimi 40 giorni farò un protocollo un po' più mirato, proprio per cercare di abbassare quello che è il consumo energetico. Chiaro? Così la stessa cosa vale per il passo di corsa, sicuramente nelle prossime settimane cercherò di curare anche un po' quello. Ho un mio carissimo amico che mi segue anche nella preparazione fisica, perché un'altra cosa che secondo me è molto importante sottolineare, che mi ha aiutato nel nuoto, è che se uno deve fare un sport di endurance, ha bisogno di tanta forza. E uno pensa che alla forza ce l'ha bisogno Jacobs, ma in verità la forza ne abbiamo bisogno soprattutto noi che siamo dei maratoneti, quindi l'ho visto. È facile cadere in questo catabolismo muscolare, vedere le braccia che si asciugano, e sicuramente ho iniziato a fare da novembre, perciò due mesi una preparazione che mi ha dato, all'inizio ovviamente mettere insieme le cose è più difficile, perché questa è la cosa affascinante, ma a volte un po' crudele. Più cose mette insieme è più difficile poi lavorare in sinergia. Stiamo parlando sempre di un amatore, però chi vi segue è un appassionato, chi vi segue vuole migliorare e vuole sentirsi meglio. E quindi la stabilità che parte dalla caviglia, arrivando al polpaccio, per arrivare soprattutto al bacino, ho visto che se il bacino è protetto, allora veramente fare tutti questi chilometri non sarà un problema. Guarda Massimiliano, noi siamo contenti di sentire queste parole, perché sono quelle che ci ripetono le materie. E leggiamo noi spesso sulle tecniche di allenamento, però sentirci vicino a chi ha vissuto un'esperienza come la tua, professionale, sportiva, è un qualcosa di incredibile. E noi l'abbiamo vissuto l'altra settimana, quando abbiamo intervistato Andrea Giocondi, che lui è stato ad Atlanta, quindi anche lui ha indossato la maglia azzurra. E quello che noi pensiamo di voi è che un pochino vi vediamo come dei supereroi. Io lo dico proprio senza mezzi termini. voi avete raggiunto un livello che la gente normale non capisce esattamente cosa vuol dire arrivare a quel punto, a stare sotto i cinque cerchi. Dal tuo punto di vista, non sentire più quel brivido davanti a un evento irridato, ti dà più nostalgia o voglia di tornare a sentirli? Io lo sento, la realtà è che se uno è un animale da gara lo sente sempre, per questo è importante fare le gare, per questo è importante avere quella paura la sera prima, come si dice, rimanerci male se non è fatto bene le ripetute, è ovvio che l'esasperazione, l'intensità che si vive per un appuntamento olimpico non è di una giornata, ma sono di anni. Esatto. Però io, l'esempio banale, è vero che lo faccio con un partner legato al mondo del running adesso per la maratona, però fondamentalmente è una scusa per fare quello che ci piace ed è ovvio che tutti i giorni bisogna ritagliarsi di quei momenti per fare un po' la differenza. Io adesso ho finito di allenare i master, ho detto ragazzi, quello che facciamo oggi non ci serve per andare più veloce, ci serve per affrontare il semaforo rosso e non ne nervosesci. Per trovare una coda e dire ok, l'ottimizzo, è questo quello che mi regala lo sport nel quotidiano, perché io non ho rimpianti, io ho fatto tutto quello che potevo e io ho notato fino a quando non rarrancavo ed ero quasi un po', lasciatemelo dire, forse gli ultimi due anni un po' tristi perché veramente non ne avevo più, chiaro, quindi non ho questo genere. A me dispiace, forse l'unica cosa che mi manca è il raduno d'altura, quelle serie, dove tu arrivi e non ce la fai a prendere aria, però siamo adulti e lo sport, nonostante ne parliamo adesso in maniera esaltante, quei 60 minuti, 70 minuti al giorno, sono, per chi ne faceva ogni giorno, 300 minuti al giorno, ok, ore, ore, sono il minimo che mi posso regalare per stare bene. Domani, un'altra cosa che farò, domani vado a fare un controllo che faccio tutti gli anni, l'eco-doppler, prova sotto sforzo, perché da sempre, da quando soprattutto ho finito di nuotare, tratto il mio corpo ancora meglio, non mi permetto più di ingrassare come facevo quando ero un atleta, perché siamo, io sono 44 anni, ed è ovvio, uno dice, qualcuno che ci ascolta, dice, mamma mia, ma questo è complicato, e no, perché, voglio dire, purtroppo siamo, come hai detto tu, delle macchine estremamente, diciamo, belle, ed è bello poter, diciamo, sfruttare, ma anche rispettare. Assolutamente. Insomma, Simone, vabbè, non lo so, tu saresti, faresti un giorno intero così, lo so. Sì, sì, no, ma io lo uso come spot per tutti i miei servizi di allenamento, dopo tutte queste cose che ha detto, la forza, il recupero, cioè, cose che dico, ridico, che sembro, rompi, vabbè, non lo dico. Massimiliano, allora, intanto, siamo curiosi di vedere come andrà Londra, e probabilmente ti aiuterà a vedere in giro, e non vedere solo il fondo di una piscina, nei momenti di difficoltà, della maratona, se ci saranno, ma io ti auguro che un pochino ci saranno, perché ho capito il tuo approccio, e secondo me quelle difficoltà lì ti faranno dare ancora qualcosa di più. Ma lo sai una cosa, che io, molto spesso mi capita più in bici che non di corsa, molti mi hanno detto, ah, questo è un posto bello, guardi cosa, io quando corro non penso a niente, qualcuno mi ha detto, ah, facciamo la corsa, mentre vivo a Roma, andiamo in pieno centro, io abito, diciamo, la zona centrale comunque, vado sulla pista ciclabile verso fuori Roma, l'altra volta ho corso, ieri mattina ho corso, e sono andato verso, eh, Cassa e Sant'Angelo, ok, l'isola Tiberina è un posto meraviglioso, però, se posso scegliere, posso anche fare il circuito, il circuito, il circuito, da 5 km, cioè, uno che ha fatto avanti e indietro per 50.000 km, quando si fa questo problema, ovvio che la libertà, la cosa che mi piace della corsa e del running, che posso correre ovunque, quindi non mi spaventa, fino a meno 5, è tutto a posto, è ovvio che sulla respirazione devi stare un po' più attento, a scaldarti bene, eccetera, però è una sensazione molto molto bella, secondo me è un'antinfiammatoria, guarda, la racconto, ho fatto una 10 km di Michele qualche settimana fa, ho finito, ero, stavo benino, però in 10 minuti mi sono ghiacciato addosso di sudore, la sera mi è tenuto proprio un raffreddore acutissimo, acutissimo, ma l'indomani ho ricorso, e mi è passato, ok? Colpa, colpa anche delle foto che ti hanno chiesto dentro l'Olimpico, perché a un certo punto ti hanno... bravissimo, bravissimo, e io dicevo, non è che non ne voglio fare, ma mi sto per ghiacciare, fatemi cambiare, eh sì, però guarda, lì domani mattina sembrava un pazzo, perché ero smoccioloso, però sono andato a correre, molto coperto, bella doccia calda, e veramente credo che quello, lo sport in generale è un vaccino, ma il calore che puoi generare tramite la corsa, in ogni momento è veramente notevole. Massimiliano, grazie, grazie mille, grazie per gli insegnamenti, se ti va, dopo Londra, ci risentiamo, così ci racconti delle esperienze della maratona, che siano curiosi, e ti mando un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Massimiliano, buon lavoro. al prossimo, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Marco, insomma, i campioni restano campioni e continuano ad avere un equilibrio nella loro vita di tutti i giorni, e per questo riescono poi, come Massimiliano, a fare tantissimi sport. E per questo, come sempre, introduciamo il nostro esperto, no, di alimentazione e nutrizione, Nicolas. E poi dopo, state in linea subito dopo Nicolas, perché anche Marco ci parlerà di nutrizione, ma intanto Nicolas ci parlerà di una domanda che fate spesso ai nutrizionisti. cosa mangio la mattina della gara? Ciao Nicolas, bentornato su Story di Runner 451. Oggi ti farò una domanda che penso ti abbiano fatto cento, mille volte, fanno anche a me, ma ovviamente non è il mio tema. Cosa mangiare la mattina della gara? Diciamo, allarghiamo l'argomento. cosa mangiare la mattina prima anche dei lunghi, dei lunghissimi. Che cosa dobbiamo mangiare e anche quando rispetto a, come timing rispetto alla gara? Perfetto. Ciao a tutti intanto. Allora, che cosa mangiare? È una domanda che effettivamente mi fanno veramente in tanti. Allora, sicuramente la prima regola da seguire è mangiare il giorno della gara qualcosa a cui siamo già abituati. Non inventare nulla. sia in termini di che cosa mangiare ma anche in termini di quando mangiare. Indicativamente un orario ideale potrebbe essere circa due ore e mezzo prima della partenza. Poi ci sono persone che si trovano meglio mangiando tre ore prima, altre solamente due. L'importante è cercare di integrare qualcosa che abbia una digestione facile ma che dall'altra parte sia in grado di darci tantissima energia. io mi trovo molto bene per esempio con i pancake che sono fatti con yogurt, uova e farina oppure con le gallette di riso o la fetta di pane con il burro di arachidi e miele. Cioè tutte cose che hanno una digestione veloce ma sono in grado di mantenere la glicemia stabile a lungo e dall'altra parte darmi una grossa energia per la gara. Perfetto, perfetto. Quindi riassumendo allenatevi anche nella colazione prima non improvvisatela come vi ha detto Nicola prima della gara e dentro ovviamente ti hai parlato di carboidrati soprattutto zuccheri per darti l'energia giusta. Nicola, io ti ringrazio come sempre ricordo ai nostri ascoltatori di seguirti su Instagram sulla tua pagina Nutrizionista del Movimento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Benissimo, grazie Nicola per i tuoi consigli come anticipato prima adesso tocca a Marco raccontarci del suo rapporto con il nutrizionista. Marco, sentiamo cosa hai da dire. Il dramma della visita dal nutrizionista Quando vai dal nutrizionista che sia per una visita di controllo o per la prima volta in cuor tuo sai bene che non devi mentire. Davanti a quella figura mitologica devi essere te stesso oltre modo aprendo il cuore e chiudendo lo stomaco. Ricordati che lui sa molte più cose di te di quante tu ne sappia di te stesso. Il nutrizionista è un baluardo un punto di riferimento per la tua vita atlantica e non solo. È un cardine attorno al quale ruotano le tue incertezze le paure e le angosce alimentari. Alle visite di controllo dopo le vacanze ci arrivi di solito in due condizioni in tre mesi hai mangiato di tutto in tre mesi hai mangiato di tutto ma te ne fotti. In ogni caso più che un controllo sul tuo stato di salute alimentare è una seduta dallo psicologo volta a compensare tutti gli spritz le sagre le feste in piazza fino a notte fonda e l'immancabile maniamose una cosetta uro runciata sguagliatamente dall'amico ubriaco e molesto. Quando ti ritrovi sulla sua bilancia sei convinto che la tua di casa sia meglio più precisa e meno generosa che le mutande che ti restano durante la pesa facciano la differenza e ti giustifichi dicendo che oggi è proprio una giornata no. Ma lui non batte ciglio ti scruda serafico e sentenzi a ciò che dovrai mangiare per le prossime quattro settimane in un misto di ansia odio mestamente lo saluti ma senza guardarlo negli occhi così ti ritrovi in strada come un eretico sotto la sanque inquisizione con il foglio delle cose che dovrai mangiare triste e sconsolato e stanco e rimpiangi i litri di birra con gli amici le cene salentine i rifugi alpini a ferragosto dove sostenevi che faceva freddo e bisognava reintegrare la visita da nutrizionista è un dramma umano moderno è la resa e la waterloo del cinquantenne ormai sul viale del tramonto che solo la lasagna di mamma potrà salvare da un esilio immeritato dalla tavola di casa allora amici mi raccomando resistete anche alla prossima visita al nutrizionista un saluto da storie correnti in storie di runner 451 show abbiamo molte rubriche che vanno in profondità sui temi legati alla corsa non ci fermiamo solo all'allenamento alle gare ma abbiamo l'esperto di nutrizione da oggi abbiamo anche la psicologa sportiva Cecilia Somigli che ci terrà compagnia con questa nuova rubrica Marco ce la racconti tu? assolutamente sì la rubrica è storie di mente e corpo perché è il lavoro di Cecilia seguire atleti e non solo in particolare negli sport di squadra con il rugby e anche runner che hanno bisogno di quel aiuto in più che arriva dalla gestione della fatica e proprio di questo parleremo con Cecilia benvenuta a Cecilia grazie mille Marco ciao Cecilia buongiorno come stai? ciao ragazzi eccomi qua ciao un piacere stare qui grazie per l'invito cosa proviamo ogni volta quando mettiamo quel pettorale è un piccolo brivido insomma che sappiamo gestire più o meno bene con la tensione emotiva e tu nel tuo ambito professionale insomma ha a che fare con amatori e professionisti com'è l'influenza che dà questa tensione emotiva all'uno o all'altro se ci sono delle differenze nella relazione allora guarda la tensione emotiva per gli atleti è croce e delizia nel senso che che siano amatori o che siano professionisti è la stessa cosa nel senso che è importante che ci sia è importante domarla saperla riconoscere di doverci avere a che fare e quindi anche di dover trovare insieme o da soli o insieme a dei professionisti come possono essere appunto gli psicologi dello sport delle tecniche per far sì che ottimale che permette di fare la miglior prestazione possibile quindi ci sono degli atleti che devono abbassare il livello di attivazione emotiva ci sono tanti e questo poche persone lo sanno tanti atleti che devono alzarla la tensione emotiva perché se rimane troppo bassa non c'è quella carica e quella spinta emotiva che è collegata anche alla concentrazione al raggiungimento dell'obiettivo che permette appunto di rendere al meglio di performare al meglio quindi noi avremo degli atleti che devono abbassare e degli atleti che devono alzare per poter capire se devo alzare o abbassare devo prima conoscerla questa parte e quindi il lavoro è un po' quello di conoscenza di se stesso per quello è importante farlo con chi è esperto quindi come dire che ha le competenze per entrare un po' dentro alle persone quindi un osservatore esterno che sia in grado di mettere in ordine questi equilibri o capire da dove partire Cecilia grazie mille per la tua professionalità per essere intervenuta ci vediamo a una prossima puntata grazie grazie a voi grazie grazie di lasciare questo spazio anche a noi psicologi Simone anche questa settimana siamo arrivati al sondagione tanto perché vogliamo sapere qualcosa in più dei nostri follower o di chi ci vede e allora qual è il tema di questa settimana allora Marco non so tu se ce l'hai questa risposta io ce l'ho qual è quella scarpa che con cui non correte più ma che non butterete mai che ancora conservate o magari usate anche dopo anni diteci qual è la scarpa il modello ma soprattutto perché non la buttate è legata a che cosa tu Marco hai una risposta a questa domanda assolutamente sì ho una scarpa che non va via che ha fatto Firenze Faenza se l'è fatta tutta in 12 ore e 40 dieci anni fa e sta ancora lì nell'armadio e mi dispiace darla via ma quella mi dispiace ma non si butta Simone per la rubrica i tesori del runner di cosa ci parli questa settimana guarda vi presenterò tre scarpe uscite negli ultimi tempi che trovo molto interessanti vediamo oggi tre nuove uscite le Nike Invincible 3 sono disponibili dal 2 febbraio di quest'anno è la terza edizione dopo che già le prime due sono andate molto bene segno di continuità però ci sono alcune differenze la scarpa sicuramente diventa ancora più stabile grazie a che cosa? grazie al fatto che aumenta sia la larghezza nella parte anteriore che posteriore aumenta un po' anche l'altezza questo vorrà dire ancora più schiuma per una corsa ancora più morbida per chi è la Invincible? come i due modelli precedenti la Invincible è indicata per i runner meno lenti ci si può far tutto dagli allenamenti più lenti più veloci alle gare anche più lunghe per i runner più veloci è un ottimo modello per le scarpe da lento e soprattutto da lunghi e da lunghissimi poi andiamo in casa Brooks quindi rimaniamo negli States Brooks ha presentato diversi nuovi modelli tra questi ci sono la Imperium Max e la Imperium Elite 3 diciamo sono le due facce della stessa medaglia nel senso che una è la versione d'allenamento e costa un po' meno della gara qual è la grossa differenza l'Elit 3 ha la piastra in carbonio cosa che non è l'Iperium Max entrambe hanno il DNA Flash che è questo sistema che Bruce ha costruito con la nitroinfusione risulta una corsa morbida molto molto reattiva e quello che indica la casa americana che è un materiale protettivo ma che anche restituisce energia una cosa importante che si può notare in questo modello è come vedete la curva e questa è la tecnologia Rapid Roll che consiste appunto in questa forma curva che va dal tallone alla punta che dovrebbe aiutare ad avere una maggiore propulsione durante la corsa per chi sono indicate queste scarpe probabilmente non sono per i runner più lenti ma per i runner che hanno già una buona corsa efficiente altrimenti in casa Brooks ci sono altri modelli e quindi una dinamica di corsa che non ha bisogno di stabilità e di protezione ma il runner che vuole spingere alle gambe per farlo andiamo poi a guardare anche un po' il trail o meglio un modello ibrido trail strada ci si può far tutto sono le nuove challenger di Oka le challenger 7 rispetto ai modelli precedenti è stata rivista è una scarpa molto più morbida come vi dicevo appunto può far tutto ha un cararmato importante sotto sotto la scarpa di 4 mm che si ispira al gravel e come il gravel la bicicletta che puoi andare sia per strada che off road e quindi questa è per chi cerca un compromesso tra strada e sentieri e non vuole rinunciare ad entrambe le cose e noi ci vediamo la prossima settimana con i tesori del runner marco è arrivato il momento della storia della settimana come sempre evento benefico ce ne parli tu questa volta sì l'evento benefico ci porta a milano la staffetta della che si correrà dentro la maratona di milano grazie a una charities accreditata che è la run challenge di cui ce ne parlerà paola buonagura la storia della settimana ciao paola benvenuta su storia di runner 451 show è un piacere averti qui con noi ciao paola piacere di vederti grazie grazie per avermi ospitato bene come tutte le settimane raccontiamo delle storie legate anche a progetti di solidarietà e quindi marco a te la parola assolutamente sì con molto piacere che raccontiamo anzi racconterà in prima persona paola buonagura di questo impegno che avranno il 2 aprile sulle strade di milano perché sappiamo bene che la maratona di milano è una bella competizione ma la parte più viva se così possiamo dire che fa più rumore è quello che è nella staffetta quindi insomma la relay di milano è ormai scuola in tutta italia per quello che è l'impatto sociale e paola con una realtà bellissima che è run challenge ci racconterà qual è il loro impegno di 2 aprile e un po' di storia per arrivare a questi numeri che sono veramente importanti per l'impatto sulla gara stessa vai paola esatto sì run challenge partecipa alla relay city marathon dal 2017 e quest'anno siamo molto contenti orgogliosi perché siamo platinum partner della maratona e quindi il 2 aprile quest'anno correremo con 160 staffette quindi 640 runner tutti con questa meravigliosa maglia run challenge rossa e faremo un gran casino nel senso che siamo molto motivati insomma 640 runner è una gara praticamente se ci pensi quindi immagino l'impegno di coordinare tutto le frazioni gli appuntamenti chi si occupa di tutta questa parte diciamo burocratica ma necessaria beh c'è un fantastico team run challenge capitanato da Enrico Petracco che è il responsabile del progetto io che lo affianco una fantastica norma nostra collega insomma persone che ovviamente si danno da fare mesi prima per poter coinvolgere runner con e senza disabilità perché run challenge ha questo grandissimo obiettivo il cuore grande che è quello di far correre tutti e di dire sì a tutti per poter partecipare e ovviamente poi c'è tutta la partecipazione e collaborazione di aziende che ci supportano e quindi correranno con delle staffette aziendali tu dici correranno tutti in tanti perché poi run challenge non è solo Milano ma è presente in più città bravissimo esattamente nasce a Milano nel 2016 ma poi negli anni ci siamo ingranditi e alla Milano Marathon parteciperanno tutti gli altri punti run challenge quindi verranno da Verona da Bologna da Napoli da Palermo da Cagliari e tutti i nostri punti che negli anni si sono uniti al network di run challenge quindi chi vuole aiutare run challenge chi vuole sostenere il vostro impegno e parliamo dal punto di vista economico perché poi è inutile di girare intorno le staffette la raccolta fondi gli inglesi in questo ce l'hanno insegnato è un mezzo per poter sostenere dei progetti importanti specie in ambito sportivo qual è il vincolo l'obiettivo ovviamente e come poterlo sostenere assolutamente grazie a Relay Marathon noi ovviamente riusciamo a raccogliere fondi per sostenere il progetto che in realtà fa una grande festa al 2 aprile ma di fatto si sostiene e si supporta per tutto l'anno noi tutto l'anno ci alleniamo una volta alla settimana e anche più a Milano e poi in tutti i punti d'Italia e quindi i runner partecipano gratuitamente quindi abbiamo anche uno staff di coordinamento gli istruttori gli educatori che supportano i runner e quindi le staffette ci aiutano a supportare il progetto con professionalità tutto l'anno mi sono dimenticata qualcosa d'altro no anzi volevo chiederti chi vuole avvicinarsi al vostro progetto dice guarda io sono un runner corro per conto mio però voglio mettere un po' di più dare un po' più senza la mia fatica rivolta al prossimo cosa fa e cosa può fare con voi certo allora intanto se vuole partecipare alla Milano Marathon ovviamente va su rete del dono Ranciano il 2023 e ci supporta sia donando che invece facendoci richiesta dal portale direttamente della Milano Marathon e quindi facendo richiesta di correre con Ran Challenge quindi può venire sia noi che correrà con la nostra maglia se volete informazioni in più www.ranchallenge.org c'è un sito dedicato ci sono tutti i punti Ran Challenge in giro per l'Italia a cui ognuno può partecipare e c'è anche la possibilità di donare Paola ho visto su rete del dono che nel 2022 avete raccolto la cifra superiore ai 30.000 euro qual è la sfida per il 2023 almeno raddoppiare visto che l'anno scorso eravamo in 300 runner quest'anno siamo 4-6 anni insomma sicuramente raddoppiare vogliamo pensare e sognare in grande ma sicuramente bene allora facciamo così ci risentiamo dopo il 2 aprile così ci racconti com'è andata facciamo i conti come si dice va benissimo grazie Paola in bocca al lupo grazie grazie davvero in bocca al lupo a tutti i runner che corrono solidale grazie mille ciao Paola ciao ciao Marco sono davvero soddisfatto di questa puntata spero che vi sia piaciuta a voi che ci state guardando e siete arrivati fino a qui a guardarla anzi vi invitiamo a scrivere nei commenti cos'è che vi è piaciuto di più cosa vorreste vedere nelle prossime puntate o cosa non gli è piaciuto con i vostri amici runner le prossime puntate dicevi Marco no dico anche cosa non gli è piaciuto prendiamo anche questa no poi mi offendo sono permaloso scherzo no no scrivete scrivete l'importante è che ci fate sapere ci fate sentire la vostra voce diamo qualche anticipazione delle prossime domeniche quindi nelle prossime domeniche che personaggi ci saranno nelle nostre trasmissioni già nella prossima avremo un'icona del running giusto Marco? assolutamente sì abbiamo Marco Olmo una colonna dell'ultra running mondiale che ci farà entrare nei suoi deserti e nella sua vita da grande campione qual è e poi nelle domeniche a seguire avremo Loris Cappan avremo Lorena Brusamento avremo Carlotta Montanera avremo veramente tante altre storie importanti come quella che abbiamo sentito oggi legata a Rete del Dono tanti altri consigli per l'allenamento quindi non perdetevi la prossima puntata di storie di Runner 451 Show iscrivetevi al canale seguitici su tutti i nostri social Marco grazie grazie mille salutami Roma grazie ragazzi grazie Simone noi vi aspettiamo con le nostre storie di storie correnti di Simone Cellini con Runner 451 e ci vediamo la prossima settimana ciao Marco grazie ciao 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 Musica Musica